Questa mattina il ministro Poletti ha al convegno di rete e impresa difeso la riforma del lavoro. Lei come risponde? Vorrei capire di quali riforma parla Poletti in quanto non vediamo alcun tipo di riforma. Il decreto lavoro sono semplicemente delle piccoli e insufficienti correzioni alla riforma del lavoro Fornero, votata dallo stesso PD, partito di Renzi. Non viene messa una lira per andare ad affrontare il dramma della disoccupazione, non vengono messe in campo alcun tipo di riforme vere, per esempio quella che sarebbe la riforma delle riforme, andare ad abrogare la riforma delle pensioni Fornero, che è l'unica che può sbloccare il mercato del lavoro in un momento di contrazione dell'offerta lavorativa. Tutto il resto sono solo voci che a Renzi piace messerli in giro per far vedere che il suo governo fa qualcosa. Allo Stato di fatto è il nulla. Quando vedremo una riforma saremo risposti a discutere. Attualmente riforme non ce ne sono.